La novità della quindicesima edizione del Forum Compraverde by Green è stata la presentazione del rapporto Green Report. È stata un'occasione, il primo anno di monitoraggio, per porre l'accento facendo una fotografia sulla sostenibilità all'interno del sistema portuale italiano e in modo particolare abbiamo fatto un focus sul Green Public Procurement e l'applicazione dei criteri ambientali minimi. Il Green Report lancia un percorso di coinvolgimento degli stakeholder, delle autorità portuali del sistema italiano che speriamo possa accompagnare e far crescere all'interno del sistema politiche di sostenibilità e di applicazione di criteri ambientali minimi. Il Green Report si inserisce nei tanti rapporti presentati al Forum come i numeri del GPP in Italia, il Sustainability Monitor e il rapporto prodotto dall'Osservatorio sui biolubrificanti, proprio per avere una fotografia e mappare e avere dei dati utili a sviluppare un ragionamento e accompagnare possibilmente le autorità, in questo caso il sistema portuale, a migliorare le performance ambientali.